Salve a tutti ragazzi e benvenuti insieme a questo nuovo video di Alien, cogliona Marines Bene, continuo a dimmi che c'è qualcosa, ma io l'ho visto, ho detto che non... che potrei fare anche così, eh, accidenti a voi Questo cosa fa? Qualcosa, dai, mettiamolo, stiappetica, che cazzo li tengo a fare lì, così, senza fare un cazzo Questi sono tutti selezionati, a parte questo, più mi interessa, va bene Questo, cioè, questo che potrei non farlo, perché non posso farlo, va bene, andiamo avanti Almeno abbiamo potenziato un attimo Ma santa miserica Ok Mi sono cacato in mano Oh, salve È molto bello, sa? Eh, sì, ma bella, aspettami un attimo, va, insomma, sì Che mira che hanno, però Come mai loro hanno una mira così? Ok, rilassata Ok, perfettico Qui non c'è un cazzo Qui non c'è niente Io ho caricato Poi ho finito il mio secondario, là Finito Perfettico Altri? Oh Salve Bene Andiamo pure avanti Cosa c'è Non lo so, qualsiasi cosa sia Non ne ho idea Qui non c'è niente Andiamo pure Come si può andare Oh, salve Oh, cavoli Bene Allora, ci sono due strade Nel cocodrillo Qui ci deve essere qualcosa Perfetto Vediamo se c'è qualcosa Passata Passata miserica Mi fanno prendere i colpi Mi fanno prendere Stanno arrivando, vero? Meno malo, dai Eccoci qua Almeno loro hanno fatto qualcosa Cazzo Sapete Salve E ora dove cazzo vado? Eh Ah Si va lo stesso Ok Ce la facciamo C'è poi raggiunto Dico che siamo In una direzione giusta Qui no, eh Siamo pieni Non dicono niente Quindi io vado avanti Salve Ok Ho finito anche i proiettili Perfetto Devo cambiare anche arma In mezzo Posso Pricaggiarla Ovviamente Ho finito Ok Vediamo pure Poi dopo riporterò Quella appena prendo Le munissioni Insomma Sì Un'attrice point E uno dito L'altro Oggi Accidenti Ok Punissioni Punissioni Quindi qualcosa Ho preso Ok No Sui muri Si muove Oh salve Questi sono quelli Che esplodono Cristo santo Sputano Dell'acido Di merda Sulla testa Ok Eh Sarà un bel dito in culo Eh Accidenti Sputano acido Che bello Proprio Scusa Sputano Lontanissimo Oh santa Vacca Non dipendo Non dipendo Perché ovviamente Mi lo male Certo che Sputano proprio Lontano Difficile prenderli Spiego solo munizioni Ok Vediamo se Riesco a prendere qualcosa Questi non sono scesi Da soffitto Vabbè Scenderanno Insomma Si Ok E salve Non vedo niente È che devo Vedere anche Sulla testa Dov'è Opla Cerchiamo Di evitarli Sono uno squacco rame Che È incredibile Un nemico Un nemico in meno Ma mi stai facendo Mimma di testa Gira qua Gira là Su su giù Giù a questa sinistra Fuori un altro Eh fuori un altro Avanti un altro Ok Qui ce l'abbiamo faccionata Un bel casino Perfetto Eh l'hai già detto Ok Ok Quanto non ci divertono Perché insomma Lasciarli Venite venite Che Andiamo avanti Ci divertono Lasciarli divertire Insomma Ok La vedo brutta Sembra tanto Un'arena Quella non è di certo Una parte della nave Ci sono dei simboli Della quelli militari Cosa sarà successo? Eh Vuoi vedere che è collegata Con la struttura di ricerca? Allora entriamoci Ah beh Sembra giusto no? Sono pieno Vabbè Faremo quel che posso D'altra Sono proprio pieno pieno sono Cioè queste sono munizioni particolari Non le trovo mai Va bene Andiamo Perfettico Vai Ok Niente Ho trovato altre munizioni Di altre armi Però non di quella Il giorno libero Degli addetti alle polizie Eh Potremmo usare il rilevatore Per trovarli Ottima idea Bella Posso tirarmi fuori Dalla missione O dite che è troppo tardi Oh Neil Dobbiamo aprire quella porta Bella Cosa dice il rilevatore? Tutto tranquillo Non c'è niente nei caraggi Insomma Per il momento siamo al sicuro Come non c'è niente Io vedo un sacco di roba Che cazzo di rilevatore Ai D'anni Ora la sfondo Ah Va giusto Crivi sto bocconcino Fai ancora più baccano Bocconcino Dovevi proprio dirglielo Doveve Mi ha scappato Scusa Cerchiamo di fare meno casino Dora in poi Ci sentiranno a un chilometro Di distanza Che merda di posto Ragazzi Il mio rilevatore Non ha buone intizie Tenetevi pronti Ok Io sono pronto Dove va? Ma cosa guardi Che non c'è un cazzo qui Si può cadere però Quindi non è che ho molta voglia Ok Questa è una sedia Aspettate Va che voglio vedere Se c'è qualcosa Salve Eh vabbè Non c'è un cazzo Medagliette col cazzo Che mi ha risposto Vediamo se c'è qualcosa Oh Qualcosa c'era Vediamo un po' Non c'è nient'altro Io andrei A vedere lo stesso Non c'è niente Ok saliamo Siamo pieni di tutto A parte di munizioni Quello Non riesco proprio trovare Ok andiamo Vediamo che succede Cazzo Pronti Fuoco Sì sì fuoco Ho focato io Accidenti Abbastanza bisogna Ma male che siamo in tre A volte splotte In testa Lo spagno Come se fosse facile Non mi è piaciuto No Ti ho sparato Non c'è niente Non c'è mai niente Medagliette le avrò mancate tutte Perché non ne vedo mezza Io incredibile Eppure Non dovrebbe Sì mi ha fatto prendere un colpo Bella Insomma Io capisco Tutto qua Una sparantina Potevi anche darle Insomma Per avvertirmi 50 cose Via 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 Vito Tutti da me Vengono So che sono bello Però insomma Tutti quanti C'è qualcuno che mi ha sparato Ma sono dei salterrini nati questi Alle olimpiadi dovete andare Disputacchio perché porca miseria Ok ce l'abbiamo fatta Vediamo pure Ovviamente Munizioni che non mi servono Io qua non ne ho ancora niente Fra poco devo proprio cambiare armi Se non voglio andare di pistola Che non è piacevole Insomma Dove dobbiamo andare Ah qui non si va Quindi di qua Geromico Qui si va Ok Questa volta non sono stato io Ah ok Dove portano le scale Che cazzo Voi che ne sappiamo Eh infatti Cioè Cioè Non siamo stati qua Che cazzo so Accidenti Dove portano le scale Di sopra Dove portino Salve Vediamo pure Ci vede un cazzo Sì c'è la luce Eh no Ho sberto Sono qua Sono qua Ho acceso anche la luce Vi vedete Opla Opla Forse Forse è meglio A chi sparano Una medaglietta Una Che cazzo L'hai fatto Prende il trucco Quanta miseria Eh vabbè A chi sparano Un altro eliminato Eh io Sono messo malo Adesso cambio armi Adesso cambio Così ne metto Ne metto Ne metto Ne metto di nuovo Di nuove Insomma Di altre Allora 060 E questo ne abbiamo Poi questa qui Ne abbiamo 290 E le metterei qua Ok Meglio di un dito In un occhio Insomma Andiamo pure Ci siamo Adesso devo andare Soffro di vertigini Ah dice Che soffri Oh salve Un buco senza fondo Su un pianeta deserto Questo è un formale sequestro Delle scorte Ordine doppio Poi In un trattino 823 Richiesto dal caposquadra Joshua Morris Ci servirà una barca Di moduli Di ricerca Mi dispiace dirlo Ma il geologo Che ha scelto Questo posto Come base Deve averlo fatto Con la testa Infilata nel culo Vabbè Sì vabbè L'instabilità strutturale DLV426 Ha disabilitato Non 2 Ma 3 diversi moduli Contali pure Se vuoi Uno si è spaccato In 2 Per via di un terremoto Gli altri 2 Sono caduti In un burrone Eeeh Ho già detto Che odio Questo maledetto posto Perfetto Forse è meglio Che questo Lo ama Il geologo Insomma La testa è filata Nel culo E che casso Oh Ho trovato 10 Non sono troppi 10 Anche dopo Sai Che fosse di precisione Che con un Un kill shot Insomma Un Un hit shot Però insomma E vabbè Mi fai passare Grazie Molto gentilo Appiamo Oh salve Lei è bello Sa E vabbè La vedo un po' brutta Io ce l'ho messo Anche malo Ok Adesso Li disattiviamo Così siamo a postolo Vorrei disattivare Una torreta Mi scusi Sa Ecco qua Vediamo cosa c'è di buono A parte uno morto Oh salve Sto iniziando l'aggiornamento settimanale sulla costruzione della struttura Origin A parte tutti i dannati moduli di ricerca che abbiamo perso Siamo avanti sulla tabella di marcia In parte perché non è rimasto molto di Origin Come invece pensavamo all'inizio Sembra che uno dei bracci si sia staccato prima che arrivassimo Che cosa diceva che l'ha causato dottore? La lava ha staccato il braccio Ah già Ora ricordo Dovremmo essere capaci di ricostruire la struttura Origin nel giro di due settimane E se posso aggiungere anche senza quel braccio È un vero spettacolo Ok Molto chiaro Molto bello Molto inutile Allora vediamo un po' Dove dobbiamo andare Ovviamente sto tornando indietro Perché è soltanto bravo È soltanto bravo Ok arrivo Mi raccomando Mi aspettate Stavo dicendo Perché non spara? Oh casso Sì ma è pieno di torrette qua Io non so ancora dove dobbiamo andare Qua è uscito qualcosa Ci posso andare Ci posso andare Ovviamente non so dove devo andare Però Oh salve Lei mi piace molto sa? Mi è piaciuta tanto sta cosa E quindi posso salire? Posso salire? Quasi Quasi Fammi dar qui Qui Prende per il culo Oh ce l'ho fatta Ma tutto questo ha portato a? A un casso Ok Però una piastrina Qualcosa Vediamo se ci sono le torrette Ovviamente c'è Ok Ok Andiamo ancora avanti Apriamo Perfettico Dai che ce la stiamo facendo Un po' Così Attentoni però Ok Trova il registro Ah Loro aspettavano a me Bella fatica Non è che ci siamo fatti male al culo Aspettarmi Vabbè Oh salve E beh dai Cominciamo a recuperare qualcosina Non è tanto però Qui son venuto Non c'è niente Eh L'altra C'è gli altri Ecco qui Non riesco più a parlare Apri Carichiamola che è meglio Vediamo se c'è qualcosa Non c'è niente Oh Interessante Nilla pensi che questo sia in funzione Non so quanto te Forse stavano spendendo tutto Eh Guarda che funzioni comunque Cerca quel registro Nilla Lo sto cercando Non lo trovo Beh Ce lo avrebbe mai dentro C'è un registro qui Ah Più facile di quel che pensavo Aspetta Cosa? Cosa? C'è l'identificativo di un marine qui Hanno un marine Chi sarà? Mandalo a Cruz Lui saprà come scoprirlo Capitano abbiamo il registro Stiamo facendo l'upload Su una frequenza del ripetitore Poi ci inoltreremo nella struttura Ricevuto Winter In bocca al lupo con Bella Ok Hai sentito? È una navicella Si saranno accorti che qui è tornata la corrente Non possono venirci qui Ma dobbiamo rimanerci la scuola Scappa nel... Ma gli devo sempre scappare Cercare Oh santa miserica Vai Bella Fa il tuo lavoro Aspetta che devo guardare le spalle Perfetto Vediamo un po' che succede Aspetta un altro po' di munizione Ok Eh 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 Salve Ok Ok Arrivo arrivo E' molto preciso Il tuo cucino Proprio Mi sono bloccato Accidenti Mentre lei spara Lui spara Bella Io sparo lui Insomma Ecco qua Perché ce ne siamo fatta Possiamo vedere se c'è qualcosa C'è un casso Oh medagliette Proprio Non le vedo eh Non c'è niente da fare Accidenti Vediamo un pochino Cosa facere Devo proprio chiudere Ma chiudiamo Dai che è meglio La volta che non chiudo La volta che passa qualcuno E non c'è un casso eh Accidenti Chiediamo Ciao È stato un piacere Unisioni Grazie Un po' di rinforzo Che non fa mai malo Chi è? Dov'è? Non vedo un cazzo L'ho preso una volta Non mi ha servito un cazzo Però Ma fa piacere per te Insomma Certo che è tutti contro tutti qua Ok Ok Perfetto Porca vacca Io cerco intanto Che loro si divertono Vedo che Vedo che si divertono Tanto Perfetto Qui vogliono tutti Insomma Perfetto Dai Sono messo Abbastanza bene Madonna Bella Cosa fai? Fa così eh Perfetto Sì sì Voi State lì A fare il vostro lavoro Quindi faccio il mio Ok Avete lasciato un sacco di roba Ma anche qualcosa di Cosa ho preso? Ho preso tanti proiettili Quindi Qualcosa mi fa pensare Che ce li ho anche qua Ok Questo Mi sa Un'arma un po' di merda Così proprio per dire Insomma Beh dai Ho continuato da qua Vabbè dai Io direi che ci possiamo Che salutare qui Visto che intanto Ho fatto il checkpoint Quindi per questo video è tutto Invito come al solito A lasciare un lago Come te ci piacerà Seri E di farmi sapere Cosa ne pensate E poi adesso Vi do un saluto Ciao 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 ciao